Il quaderno Ok, ho semplicemente bloccato Oh Oh, che cazzo mi rubi il quaderno? Ah no Ti fanno dibattito Mi sta sempre rompendo il coderno Mi sta sempre rompendo il coderno Mi sta sempre rompendo il coderno Nuoto So, tell me Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasy? Garry, just get out of the way Oh, Marion show me your breaststroke again Or wait, do you like the boys on the team? Yeah right there, which is it Petey? I see you guys are getting along as usual I'm just Tuffing up Turning into a man or a woman Or something Qualcosa Hey, Jimmy Hey Petey Ah, peace Good to see you Listen, Jimmy I have a favor Lucky went to the auto shop To get some food To get some food He hasn't come back yet I think he might be in trouble Please Why don't you go yourself? I've got homework Yes, yes Ok, I'm frightened And I've got a weak bladder Well, I think the bullies might have gotten Hey, okay Do it It's a good chance To show Russell who's in charge around here Uh huh Now run along Peace Dane Before you mark the carpet Pishon Yes We have to take care of the boys Then after that Take care of all the other clicks Soon This school will be ours I don't want the school Yeah, well I do, pal And I intend to get it Now go out that door And what are you going to do? I've got planning to do Ma che penne que fa? Si piglia Si tira a bussi di gente Sorry Stop Sorry Il come loco in secchio Vabbò In sintesi Andiamo ad aiutare quel ciccio secchione Caccoloso Questa musichettina Aspetta ragazza Mi da un bacino Tipo No Molla quel quaderno Mi serve a me Mamma cettino Mi serve No no niente scherzo Stanno ammazzando quell'altro tipo Lo stanno facendo nero La vita è gialla Che gli squatterà questo? Muoviti lo stanno a fa' nero Ragazzi non si picchino secchioni Ve l'ho sempre detto E' maleducazione Non si fa Atterrate in due secondi Aiuta il nerd A entrare nel Oh oh Scortate eh Oh una mazza E che? E se ve la uso contro di voi? Aspetta eh Qui sono un po' incasinato Peccata la mazza Aspetta Levatemi un attimo Eppela E E E Etie Calcio nei denti Lezzo Muori Alzati su Piff Piff Non si picchia nei secchioni Capito? Un attimo Ciao Ancora Ancora Ah ok Via giù Ti devo aprire anche la porta Una fetta di culo o vuoi? Via giù Prendi quello che devi prendere E devo andare a lezione Muoviti Mio Altri due Merdine Oh Andovai Andovai così Aia Lascia stare il mio amico No 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 Lascialo Giù Te le tira Salve Muori Stai Per fare del mare al mio amico secchione Scorta Vai giù Fermo Ho detto Ho detto Non si picchiano i secchioni Soprattutto Se no ti faccio nero Boom Vabbè Andiamo Apriamo la porta State buone Grazie Quali sono già rialzati? Oh Uno skateboard Rispetto a Bulli Non lo riesce Finalmente Lo skateboard Yeah Ora andiamo a lezione con lo skateboard Yeah Assenza ingiustificata Aspetta Passiamo dall'entrata di qua Vai si fa prima Olle Si ma devo andare a lezione Facciamo i bravi bimbi Dov'è? 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 E su! Ma un po' Ma forca... Si dopo dopo Non posso perdere le lezioni di... Di che? Più veloce! Di che? Musica! No che è? Si musica E' un po' Hello Cicciono E' la mia musica E' la mia musica Questo anno Vai Musicheggiamo un pochino Vai Strumento più mongole del mondo Pa 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 Si sono musichettine dal Da scuole mongole Poi man mano gli strumenti cambiano ovviamente Arriveremo anche a suonare il tamburo Farsi ammazzi vari Magari fossero cinque lezioni e poi si è promosso così Tanto guardate la tizia dietro che Nemo? Vale stiamo già sulla sufficienza Anche se sbagliamo ora è uguale Wow non cazzo Vediamo se riesco a fare il cento per cento No generosi come un dito nel culo però Jimmy era incredibilmente tempo Grazie grazie sono figo solo io Maglia pianola rossa? Dov'era? Oddio ma Ne volete proprio beccare Ma ciao Beatrice Beatrice vabbè No no te ne apri ti ha rotto l'anima Ciao Ci si vede nel prossimo Oh eccolo Che di che hai bisogno? Nascondi i cioccolatini nell'armadietto Vabbè Dove? Giù? Sai che mi devi pagare per fare ciò vero? Perché te Devi sfruttare le mie abilità da scassinatore Ecco No 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 grazie Non la faccio da solo Ciao Aiuto Mi vogliono Mi vogliono inculare Aiuto Nascondiglio Nascondiglio Via No non sono qua Non ti preoccupi Che poi sono tutti lì davanti Tranquilli Non sospetteranno mai Che sono qua Ok Non è successo Ehi Non è successo Cazzo vai Ti faccio una squarti Culo Eh Via Via Aiuto Ma lo posso buttare Nell'arma dietro a lui Vieni No no aspetta aspetta Vieni Sì Lo posso fare Bullismo contro l'autorizzata Ma dai Oh mio dio Ehi mi nascondo Muoviti Nascondi Nasconditi Solo ricorderà per tutta la vita Tico È ancora dentro l'armadietto Andiamo a controllare Ah è uscito Ok torniamo al nostro lavoro Di scassinatore Un po' così Un po' così Aspetta un po' così Ecco c'è colatini Nascosti Per lei Uè 10 dollari Niente Oh che c'è Un'altra volta Che vuoi Tira l'arma Tince Minchia È da due passi Ti pesa così tanto Il culo Bravo Non è successo niente Basta la metà fuoco La scuola Ciao Beh sta 15 dollari Per tirare un cazzo dell'arma Così generosi Il candidato Guarda di com'è fiero Neanche Superman è così fiero Muoviti nerd Ah 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 Siamo di pene Se ti buttano nel cestino Fa più male Mi sanno neanche leggere poi C'è Grandi Grossi E ignoranti No La mamma no Tutta ma la mamma no Da Non forgetta la mamma Ah Ah I seccione sono mal visti Non è anche morto Adesso si che si ragiona Ho sempre saputo di essere il leader Di monotet Sì Ma se ti vedi a tutti Voi Non vedi Perché E' sicuramente Sì 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 me lo sta dando mi sta piacchiando grazie ciao eh che fai sfuggito al prefetto ora lo sganiamo minchia se le sta notando vabbè avete rotto il cazzo di ah io me l'hai tirato cosa? ah troppe cose che dicevamo? che dovevamo andare a seguire il discorso di quel quattro occhi mingerlino ok ci devono sorbire il tizio che parla teno al sicuro Ernest fino alla fine del discorso nasa veloce però con tanto di musichetta poi mi dicono che c'è tanta gente che lo segue oh dobbiamo menare le mani eh no Bonoli Cuccio ma si di tiro non gli fa nulla che c'è Cuccio vai Bono teno giù cliff cliff non gli faccio niente fermo e seguo il discorso del nerd sta muschettina sexy io so un cazzo ma se gli rompo le cazzo eh Bonoli Cuccio addirittura basta prefetti violenti basta insegnanti noiosi eh no eh no eh ripensaci potresti beccarne da me cioè si rifiutano così cioè gli basta un sassettino nel culo e si ritirano ciao muore ouch giù Cuccia vai giù non è ancora per molto dai muoviti sto affinando le munizioni ti muovi che cazzo è quella roba what the fuck che roba era un tizio vestito da bufalo go stai buono te che non serve a niente c'è ma di stare a Luna Park che al tiro avversario solo con le persone vere eh vanno lì Cuccia non si fa cattivo allora di cambiare le cose è meglio e testa è fermo ma perché non si può attirare tipo le uova che almeno ci pensavano un po' io in chiusura ricordate un voto per E e un voto per me cazzo originale come la merda ci sono 4 persone messe in croce e poi c'hanno un entusiasmo 5 fai il tuo momento super fionda termina con questo video non ci si vede alla prossima mettete mi piace al video iscrivetevi al canale alla fanpage di facebook ciao a tutti e alla prossima